Perché i motori quattro tempi? A parità di cilindrata sono meno potenti dei motori a due tempi? MDB te lo spiega, venite! Guardate, queste sono le quattro fasi del motore a quattro tempi. C'è l'aspirazione dove il pistone va giù e l'albero motore ruota. La compressione dove il pistone va su e quindi già si è concluso un giro. Successivamente c'è l'espansione e quindi il pistone riva giù. Ed infine lo scarico, quindi il pistone riva su. Tutto il ciclo si conclude in due giri dell'albero motore. E qui c'è un'animazione, guardate. Fa espansione, non la fa e rifà l'espansione e così via. Per quanto riguarda il motore a due tempi, come si vede qui, l'espansione avviene in ogni giro dell'albero motore, quindi non ogni due ma in ogni giro. Ed è questo il motivo principale.